Succede anche stavolta, i finiani propongono un emendamento, l'opposizione lo vota e il governo va sotto. Ma la riforma a Gelmini nel complesso non rischia stasera anche future libertà, dirà sì, rivernicando le modifiche ottenute. Su uno degli ultimi nodi, le norme contro il nepotismo nelle facoltà, i finiani votano con la maggioranza e non con Di Pietro, che si infuria, accusa i futuristi di ambiguità e si scaglia contro il ministro. La dama sostenitrice dei baroni è proprio la Gelmini, con lei che a parola dice di voler combattere i baroni e nei fatti oggi, stravolgendo l'emendamento dell'Italia ai Valori, ha di fatto ridato ai baroni la possibilità di assumere figli, nipoti e amanti. Giornata campale, quella di oggi per la maggioranza, Berlusconi in mattinata sollecita l'applauso del Consiglio dei Ministri per Maria Stella Gelmini. Sacconi invita i manifestanti ad andare a studiare. La riforma, dicono PDL e Lega, è giusta e innovativa. Contro questa riforma c'è una combinazione fra elementi corporativi ed elementi estremisti, che però sono minoritari nella stessa università italiana. Partito Democratico e Italia dei Valori confermano il loro no e accusano Maroni di aver alzato la tensione blindando il centro di Roma. Voterà no anche l'Udc, che parla di riforma senza risorse. Si promette un miliardo per il 2011, dice Nichi Vendola, mentre ancora non sono arrivati i fondi per il 2010. Una maggioranza che a tempo scaduto vuole imporre una riforma fatta solo di tagli al Parlamento sbaglia e continua a sbagliare e troverà la nostra ferma posizione qui e nel seguito dei lavori parlamentari.